Allora sì. Perfetto. Ragazzi niente live perché non vanno le live di YouTube oggi a Luca Comis però quando vedete questo video sappiate che noi siamo qui e ci stiamo divertendo. Alla facciazza vostra. Becca! Rosicate! Ci scusiamo ancora per le live che volevamo fare però oggi YouTube fa cagare. C'abbiamo telecamere, cellulari e le powerbank per i cellulari per non farle sgaricare non va YouTube. Che sfiga proprio. Non potrebbe andare meglio di così. Comunque siamo un po' di corsa perché tra una mezz'ora dovremmo finire di mangiare il ramen. Abbiamo preso il ramen! Ce l'ho anche io. Alla pancetta perché ci piace mangiare le cose. Siamo a dieta però. Sì infatti. Luca Comis non esiste la dieta. No. Ieri ho mangiato questa settimana tre pizze. Becca! Tre pizze. Eh ma è Luca che farmi il voglio di mangiare. Non è colpa nostra. Poi bignè. Poi vabbè calamari fritti con patatine eccetera eccetera. Quando mangi le cose fritte che mi piacciono. Una volta le facciamo insieme a casa mia. Perfetto. Cuciniamo insieme. Vedete che faccio esplodere la sua cucina. Se sentite una bomba atomica sono stata io. Faremo delle live se ce la facciamo quando ci incontreremo. La prossima volta. Al di fuori di Luca. Ah anche sì infatti. Poi un giorno se viene a casa mia si va in centro a prendere i Pokémon. Eh infatti faremo le live con Pokémon Go. Non vedo l'ora. Sì. Sono presi un po' però si blocca a continuazione perché non c'è linea. È una sfiga veramente pazzesca. Comunque oggi è il 3 novembre. Il 3 sì. Il 3 novembre 2018 per certificare la data esatta. Del video. Del video che è. E sono tipo l'1 e 20. Quasi le due. Quasi le due. E purtroppo tra poco ci dobbiamo salutare però nel frattempo abbiamo trovato un posto appaltato. Dove c'è il parco. Appaltato. vicino al palco e stiamo per mangiare il ramen. E non vedo l'ora. Prima abbiamo mangiato anche un po' di sushi. Giusto. Con i gambe rifritti. Che buoni. Che buoni. Abbiamo visto un sacco di negozi. Quante robe di Pokémon abbiamo trovato. Troppa. Un sacco di roba. Avrei comprato il mondo ragazzi. Il mondo. Siamo povere. E infatti. Io avevo portato un bel po' di soldi però non posso spenderli proprio tutti. Poi per il Torino Comix non ce li ho quindi. Poi comunque c'è qui è impossibile. Cioè qui spendi comunque anche se non vuoi spendere. E comunque chiedo scusa per il tremorio che ci sarà un po' però è difficile. È uguale. C'è un po' di vento. Sì ma si sta bene oggi. Ieri ho camminato tutto il giorno qui da mezzogiorno fino alle 5 e mezza 6 sotto la pioggia. In delirio. Invece oggi è bel tempo. Avevo i piedi bagnati fradici. Che meraviglia. E questo che mi tocca per Luca. Per i Comix. Che bella cosa. Veramente. Però ho comprato la catana di Nuyasha. Un sacco di roba ho comprato. Quindi ragazzi state pronti perché domani nel tardo pomeriggio se ce la faccio farò una live. Quindi dovete esserci. Dovete spolicciare sia questo video. Spolicciate in più di 30. Tu che guardi. Spoliccia cosa aspetti. Spolicciate in tantissimi. E poi spolicciate. Ops. È crollato il telefono. Adesso lo raccattiamo. Adesso puoi tenere un secondo? Certo. Grazie. Chiedo scusa. Tanta polenta ladra. Guardate. Guardate. Si vede anche la gente dietro. Ah che bello. Guardate che bello. C'è tutto. E quello laggiù è il palco. Qui ci sono i bagni che sono i nostri migliori amici. Grazie. E lì c'è tutta la gente. E vedete. È bellissimo Luca. Eccomi qua. Questa è solo una parte. Di Luca. C'è tante cose. Eccomi qua. Grazie. Non crolli anche questa. No infatti. Che vedete l'erba. È un po' di... È l'erba di Luca Comics. Un po' di mal di mare verrà. Mi verrà. Altrimenti. Vabbè. Comunque poi... Andiamo a mangiare sennò. Infatti dobbiamo andare perché sennò i mei si dirà metteranno. Torni che non hai ancora mangiato. Ti lasciamo qui. A me farbbe anche piacere restare qua Luca. Tanto... Non è un problema. Dormo qua. No forse no. È meglio. Qui vicino al bagno così poi alla notte quando mi devo alzare ho il baggio al bagno. Che devo andare a alzarmi almeno tre volte alla notte. È anche io uguale. Anche di più. Anche. A volte quando mangio la pizza per esempio devo mangiare... Un chilo... Un litro e mezzo di acqua. Un chilo. Stavo per dire. Un chilo d'acqua. Vabbè. Il gelino è più totale ragazzi. Madonna. I bagni. Quante file per i ba per tutto. Madonna. Ne vale la pena. È bello Luca. Dovete venire. Sì. Dovete venire. Il prossimo anno se riescono a ritornare a organizzarmi il meglio di quest'anno dovete esserci tutti. Dovete venire anche voi. Venite. Venite in tanti. Ci incontriamo. Ci divertiamo. E ci incontriamo sempre allo stand dell'Umbrella Corporation. Sì tanto ormai. O al palco. O al palco sì. Ho fatto un sacco di video alla stand dell'Umbrella Corporation di Resident Evil. Quindi dovete venire a vedere nei prossimi giorni l'animation che farò di quest'anno di Luca Comics 2018. Un bel mix. Sì. Bene. Direi di concludere qua. Sì. Mangiamo il nostro buonissimo ramen alla pancetta. Noi salutiamo dal Luca Comics 2018. E ci vedremo nelle prossime live. Spoliciate. Ciao. Mi raccomando. Ciao. E seguiteci su Nintendo Spookets. Anche se non vi piace a caso. Sì. Seguiteci su tutti i nostri video. Mi avevo fatto un sacco di incontri. Infatti. Infatti avevo fatto già un altro video ieri sera però ero in macchina e traballava un po' la telecamera. Quindi credo che vi farò un altro video. Infatti. E poi si senteva la pioggia. Quindi preferisco rifarvi un altro video anche se li ho sbloccati. Io stasera o domattina farò una live piccolina dove apro i pacchi delle persone in Corella che sono Nintendo Spookets. Però non so se stasera perché io torno tardi stasera e quindi penso domani. Forse domani sera allora. Boh. Un giorno o in settimana quando non ci sono i miei che sono al lavoro. Fuori dalle palle. Infatti. Perché una live l'avevo fatta anch'io quando c'erano i miei però preferirei farla quando sono a casa da sola anche io. E' meglio così non si disturba sempre. Concordo. Vabbè ragazzole vi salutiamo. Spoliciate mi raccomando. E iscrivetevi nei nostri canali. Altrimenti vi chiediamo il canale. Come ieri. Infatti ciao a tutti. Ciao e rosicate. Rosicate se. Rosicate. 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 Ciao ciao. Buona giornata. Ora mettono tipo 20 dislike.